Siamo in compagnia di Don Vincenzo, il sacerdote della chiesa Madonna delle Grazie. Da 9 anni il sacerdote in questa chiesa sta ottenendo importanti risultati, non ultimo la scuola calcistica SD San Paolo. In questo periodo ha lanciato anche i lavori della struttura della chiesa. In cosa consistono precisamente? Sì, questi lavori sono molto importanti e anche necessari perché sono ormai 50 anni dalla costruzione della chiesa e delle strutture. E quindi era opportuno e necessario intervenire soprattutto sulle fondamenta che sono state consolidate. e vogliamo rendere i locali adibiti alla pastorale, renderli sempre più idonei per portare avanti questo impegno di fondamentale importanza qui a Madonna delle Grazie, dove la chiesa parrocchiale con le sue strutture e il campo sportivo è l'unico punto di riferimento per tante persone, per tanti ragazzi, tanti giovani, tante coppie di sposi e quindi era necessario che portassimo a realizzazione questi lavori che sono iniziati a metà febbraio e stanno andando avanti con un ritmo molto intenso. La ditta che ha vinto la gara d'appalto, che si è tenuta in curia, è la Edilbisi di Santa Maria la Carità e l'architetto che presiede un po' i lavori è l'architetto Michele Mascolo. Quindi i lavori stanno andando bene. Io attraverso questa intervista e di questo vi ringrazio per la vostra disponibilità vorrei far conoscere un po' a tutti i fedeli di Madonna delle Grazie e anche a quelli che con la chiesa non hanno nessun legame o si sentono un po' lontani vorrei portare a conoscenza di tutti quello che stiamo facendo che ovviamente quello che facciamo non è per me che oggi ci sono io, domani verrà un altro parroco ma quello che facciamo deve rimanere come segno della nostra fede e del nostro impegno concreto e fattivo per il bene di questa comunità che ci sta veramente a cuore. Non dimentichiamo che il primo parroco, Don Luigi Russo, con tanti sacrifici ha venduto anche le sue proprietà per realizzare quest'opera e noi non dobbiamo essere da meno di lui. Quindi vogliamo sulla sua scia impegnarci perché, ripeto, in questo momento le strutture, la casa canonica possano veramente ritornare al loro splendore e possono essere anche ampliate, potenziate poi passeremo alla chiesa quindi non vogliamo essere da meno e allora abbiamo bisogno dell'aiuto, della collaborazione in base alle loro possibilità di tutte le famiglie. Poi, nelle prossime settimane, anche con i volontari della parrocchia passeranno per le case e consegneranno a tutte le famiglie una lettera aperta che ho scritto dove offriamo anche delle modalità di aiuto poi ogni famiglia sceglie in base alle sue opportunità e alle sue possibilità. Ripeto, abbiamo avuto i lavori a Mondana a 1.250.000 euro metà di questo finanziamento l'abbiamo ottenuto dalla CEICOL la conferenza episcopale italiana con le offerte dell'otto per mille l'altra metà ricade sulla comunità quindi dobbiamo attivarci perché possiamo, ecco, nel giro di alcuni anni così poter raccogliere questa somma con la quale poi assolvere i nostri impegni con la ditta che stanno, come vi dicevo prima lavorando veramente bene.